Ciao creatura, io sono Mecca di Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Kusai, A-S-M-R Ah, perché faccio così? Perché sto tenendo in segreto il microfono che adesso ti andrò a mostrare Perché come in Invea ASMR anche io sono stata contattata Tra l'altro questa tinta ha il negozio su Aliexpress Wow, ed è Fifine Andrò un po' con un po' di soft spoken Fifine Che ha questi microfoni troppo cute Praticamente è, secondo il mio punto di vista, la versione kawaii del Ploietti Perché è uguale, solo che è piccolino Dopo te lo mostrerò Ed è super wow, mi dice un sacco Appunto mi hanno contattato per provare il loro microfono Che questo è il Fifine K678 E non è binaural, però ha un bel suono E secondo me è perfetto per fare i inaudible Dopo te lo faccio un po', proviamo a fare un po' di suoni E proviamo a fare l'inaudible Secondo me è wow, è bellissimo Wow In più questo va attaccato al computer Sai che il mio computer ha tipo la ventola che parte Si sente rumore, fruscio Invece questo ha il microfono solo dal lato della mia bocca Di qua scherma tipo i suoni E quindi è perfetto Non vedo l'ora di usarlo per le live Dico sempre che voglio fare le live sul sito Viola E poi non riesco mai perché ci sembra un casino Però prima o poi mi scenderò anch'io sul sito Viola A fare le live con il mio nuovo microfono E' perfetto appunto per registrare con il computer Per fare le live Ha anche la possibilità di sentire cosa si sta registrando Come quelli professionali Ma questo è un signor microfono E' in offerta, tra l'altro Allora te lo mostro Forse vorrà un po' di rumore Aspetta lo mettiamo Comunque ecco senti che il microfono E' puntato verso il computer Quindi sta captando tutto la ventola Tutti i suoni brutti Si può mutare cliccando qui Perché sei un... Ok E poi qui ha altri due tasti Ma comunque Quanto è un ployetti cute e miniatura Tantissimo Adoro E allora un attimo Facciamo così che... Così lo vedi Fettissimo Guarda com'è bello Allora Ha questi due tasti Adesso quello sotto Mi sembra che sia per C'è la view camera che sta cercando di imitare a fuoco la mia faccia Quello sotto è per l'audio del... Delle cuffie E quello sopra è il... Come si chiama? Gain Sì il gain L'avevo detto giusto Aspetta che ho fatto fuori fuoco E insomma Mi piace un sacco A me piace un sacco Spero che tu mi riesca a sentire bene Sono super emozionata Quindi vorrei un video un po' così Un po' professionale Se riconosci la felpa È lo stesso giorno in cui ho fatto quello dei regali Che questo è stato praticamente un regalo di compleanno Da parte di Aliexpress La mia faccia è diventata tutta Illuminata dalla luce divina di Agate Splendente Altrimenti non mi chiamerei Agate Splendente effettivamente Comunque adesso ti faccio un po' di nuovo Di buono L'unica cosa è che devo metterci qualcosa Tipo un calzino lo so Per il respiro Si sente un po' di respiro Però a me piace quando Ci mettono l'antipop A me piace tantissimo la P La T Così no? È tricchierosa Invece Alcune persone dà fastidio Non so De creatura Per me non sapere Ah sono super luminosa Di nuovo Vabbè Così E niente Perché tanto c'è in primo piano Qua il nostro protagonista Il Fifine Quanto cute Bellissimo Guarda È così Cioè le mani piccole Guarda È così È bellissimo E sarà il microfono Più cute Del mondo Non ho le unghie lunghe Ormai il mio Trigger preferito È Whispering L'inaudible Siamo alla voce È quello adesso Il mio Trigger preferito Comunque al lavoro Ci sono delle tastiere Che sono Fottoni Che fanno Un suono Super ASMR Peccato Che il mio Telefono Abbia un microfono Che Mi hai sentito Quando parlo Non si sente niente Avete voluto un sacco Farti Degli audio Finché sono al lavoro Per farti sentire La tastiera Quanto ASMR Tu non puoi capire È bellissimo Poi ci sono anche Tutte le altre persone Del mio ufficio Che Dici Da no no Che scrivono Velocemente Scrivono Ed è Super Ah ci sono dei momenti In cui Non c'è rumore Che magari Sono tutti in silenzio E scrivono E basta Che è Super Super ASMR Mare Mare che sono splendente oggi oddio ma che cos'è questo suono meraviglioso mi sto sciogliendo sembra un massaggio sulla neca sembra un massaggio sulla neca ma se io tipo mettessi qualcosa tipo la spugna dell'ottom non so se ci sta dentro proviamo piena di pelle di sana piena di pelle di sana piena di pelle di sana wow scusami wow aspetta mi si vuole qualcosa mi si era spenta la videocamera comunque ho preso un pennello per provare qualche altro trigger oh mio dio mio dio sembrano le onde del mare ci sta bene però qui c'è la loro parte che è gigante e quindi sembra tipo clown però a parte questo fa un suono super super asmr adoro nuovo nuovi trigger con fifine 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 ed ecco che splenso fifine fifine bello anche quelle mani sono aspetta eccomi tutta bella luminosa wow andiamo anche le forfalle le mie belle mani secche aspetta togliamo i peli di Sam faranno un suono no non fanno alcun suono perchè non sono in profondità come i tuoi pensieri come quella volta che ti ho tolto i pensieri i pensieri negativi ti ricordi, i creatori e ho anche il dead cat ma mi sa che è troppo stretto guarda com'è stretto secondo me non ci passa ci passava a pelo lo Zuma H1 se ti ricordi o no ho piantato tutti i peli del dead cat tra un gatto vivo e un gatto morto tra seme questo meglio seme ovviamente vediamo un po' oddio sembra Einstein o un troll con questo ciuffo qui oddio bra bellissimo oddio allora ce l'ho fatto stare sua forza tipo spingendo con tutta la mia forza ho mutato il microfono perchè questo ha la possibilità di essere mutato quindi è perfetto anche per le live per quello e ciò l'ho incastrato dentro che bello con le buone maniere si fa tutto che io sembra di accavizzare la testa di qualcuno tipo la mia grazie no io devo fare un video solo microphone touching se sei d'accordo come creatura scrivemi nei commenti voi voglio sapere se questo video ti è piaciuto però sai che io apprezzo sempre nuovi microfoni adoro tutti i microfoni c'è chi spende soldi in trucchi vestiti e quant'altro non so cena ristorante viaggi e ho microfoni microfoni e auto auto vabbè lasciamo perdere l'auto mi sarebbe per il lavoro diciamo che i soldi che spendono si spende i microfoni e sono soldi sempre ben spesi per creare nuovi contenuti per te creatura per te questo ed altro per te questo ed altro per te questo ed altro creatura questo sembra quasi le onde del mare chiuditi occhi immagina che sei su una spiaggia al caldo non troppo caldo non quel caldo tipido e quel venticello caldo che ti solletica e lenta i piedi cosa abbiamo poi in questa spiaggia fammi pensare nessuno che ti rompe le scatole non ci sono insetti abbiamo un bel cocktail fresco al cocco e mango una cosa rinfrescante una cosa succosa buonissima bella fresca rinfrescante siamo siamo lì siamo lì e c'è errore del mare che ci culla noi siamo straiati ma siamo comodi sì quella sabbia è molto comoda e si adagia perfettamente il nostro corpo ci fa restare comodi bello bello poi ci sono anche delle palme che altro c'è creatura scritto nei commenti è tutto silenzioso e calmo non ci sono bambini che giocano con la sabbia o che ti buttano attosso il pallone non ci sono persone che ora che fanno rumore ci sei solo tu tranquilla in questa isola in questa spiaggia se vuoi siamo io e te creatura e stiamo tranquilli lì a rilassarci con le onde del mare possiamo anche scranocchiare del cocco se vuoi o della frutta fresca sì dai perché limitarci a scranocchiare solo il cocco quando possiamo muovere tutta la frutta fresca che vogliamo e nella spiaggia del regno di cos'hai certo abbiamo anche una spiaggia abbiamo il mare il mare è tranquillo non è non è abitato da creature che possono bugerti o morderti è tranquillo e se assicuro puoi rilassarti non pensare a nulla senza problemi a una matata poi verso il tramonto ci mangeremo dei noodles molto saporiti nel chioschetto vicino alla spiaggia anita la sabbia perché non voglio che i miei noodles si contaminino con la sabbia tu cosa prendi per cena hai già cenato ma nella spiaggia di cos'hai cosa mangi per cena anche tu i noodles o qualcos'altro cosa bevi poi si può andare a letto in una di quelle capanne tranquille senza insetti senza rotture di scatole e ci possiamo addormentare lì al sicuro con sottofondo delle onde bellissimo adoro grazie per essere stata con me questa sera creatura io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura